Robo 6, vai in dark su telegram e su instagram e per tutte le notizie in tempo reale 24 ore su 24 bene TGR dopo aver affermato che l'Infinity World sta testando più di 80 modalità per Modern Warfare ne ha riportata qualcuna aggiungendo che ovviamente non saranno presenti tutte nel gioco e che alcune saranno introdotte a rotazione come modalità a tempo limitato le modalità riportate sono Team Defender come c'era ad esempio su MV3 e il ritorno di Demolizione Gunfight, la modalità sarà giocabile in 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3 anche in private inoltre Infinite World sta testando alcune modalità da implementare in Gunfight come Deathmatch a squadre e gioco delle armi la Battle Royale, la Battle Royale continua a confermare che uscirà al 99% ma si sta ancora discutendo se metterla free to play o all'interno del gioco e sarà giocabile in solo duo, trio e squad le Clan Wars ritorneranno e Stand Elix saranno simili a quelle viste su Ghost le Ranked non saranno presenti al lancio ritornerà la modalità Cranked vista praticamente su Ghost vi ricordo che tutti questi sono Leaks e che al momento alcune modalità potrebbero non essere implementate o incluse nella versione finale del gioco bene ma andiamo avanti perché ieri Amazon ha iniziato ad inviare i codici per la beta privata del gioco che vi ricordo inizierà fra tre giorni il 12 di settembre questa settimana inoltre arriveranno informazioni riguardanti il pre-download che è stato praticamente annunciato e l'orario di inizio della beta che sicuramente sarà anticipato rispetto a quello previsto 12 settembre alle ore 19 secondo TGR inoltre non appena la beta di Modern Warfare terminerà verrà rilasciato subito il nuovo DLC 4 di Black Ops 4 perché come sapete dovrebbe arrivare il 23 di settembre la mappa Zombies inoltre ieri è stato confermato che Call of Duty Modern Warfare sarà giocabile al TGS al Tokyo Game Show che si svolgerà dal 12 al 15 di settembre proprio nei giorni della beta hanno anche annunciato che sarà mostrato un trailer ma non sappiamo se sarà qualcosa di già visto oppure qualcosa di completamente nuovo per rispondere a tutte le domande che sto ricevendo in questi giorni sia su Telegram che su Instagram Activision ancora non sta inviando le mail che contengono i codici per il download della beta quindi bisogna ancora attendere non è un problema vostro non dipende praticamente ragazzi da voi è che Activision ancora non l'ha inviati la mia paura è che possano essere mandati fra l'11 e il 12 quindi non vorrei che facessero come gli ultimi anni che il codice viene mandato veramente a stretto giro nelle ultime ore e poi molti non riescono a scaricarlo in tempo per via della connessione speriamo bene inoltre nella notte è arrivata una bomba da TGR secondo cui all'inizio della beta di PS4 il livello massimo sarà il 10 e non verrà aumentato fino a quando non ci sarà la crossplay beta con tutte e tre le piattaforme ed inoltre il perk Quick Fix di cui avevamo già parlato nei precedenti video è stato rimosso dalla versione beta ma sarà comunque disponibile all'interno del gioco completo qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate ci vediamo alle 13.30 in live così giochiamo insieme e scopriremo tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty vi ricordo occhi aperti perché già da questa sera potrebbero arrivare le prime informazioni sui contenuti della beta e noi ci vediamo ad un prossimo video